Buongiorno a tutti, oggi è il 22 marzo e vi sto parlando da Kiev dove abbiamo presentato la nuova edizione del White Book che è appena stata pubblicata oggi su PubMed. Il White Book è il documento di riferimento degli European Bodies sulla medicina fisica e riabilitativa ed è appena stata pubblicata dall'European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. Andate sul PubMed e cercatelo e leggetelo, la Sinfer ha già deciso che verrà tradotto in italiano e quindi verrà distribuito anche a tutti i nostri soci, comunque è già disponibile in PDF per tutti.